Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva. C'è stato un periodo in cui mio figlio tirava costantemente su col naso. Mia figlia adora i capelli lunghi, ma non sopporta di farseli pettinare o di pettinarseli le stessa. Sono Clio, formatrice in disciplina positiva nel blog Parent Smile & Grow e nel corso online per genitori Tempo per Crescere. E oggi vi propongo nuovi punti di vista sulle abitudini dei nostri figli che vorremmo cambiare. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Tenitori, vediamo un po'. Qualche tempo fa una mamma mi ha chiesto, sai, proprio in questi giorni mi sono ritrovata in una situazione che non sapevo come gestire. Mio figlio ha iniziato a fare le boccacce, sputacchiano, un po' così, no? E soltanto che, insomma, nei tempi attuali, col Covid e tutto, non è che proprio glielo potessi lasciar fare, no? Anzi, quindi prima ho provato a spiegarglielo, assolutamente gli ho spiegato perché non si può, perché non si può. E lui sai cosa ha fatto? Mi ha guardato, mi ha sorriso e ha ricominciato a farlo. Non c'è stato verso, eh? Le ho provate tutte e alla fine mi sono dovute arrabbiare, però mi sono detto ma non c'è un modo migliore per fargli capire che non si fa. Forse vi è scapitato, no, anche a voi di affrontare una situazione simile. Il bambino che si scaccola, si mangia le unghie, scopre la parolaccia che assolutamente non si deve dire e non fa altro che ripeterla tutto il tempo, non si lava mai. Come fare a cambiare le cattive abitudini dei nostri figli? Sarebbe facile, no? Se potessimo cambiare così, bastano facilmente i comportamenti che non vanno dei nostri bambini. Se bastasse chiedere. Per favore, per favore. Però non funziona. Anzi, di solito più insistiamo, più chiediamo, più facciamo notare che non si fa, eccetera, eccetera, e più continuano. Adesso vi faccio vedere, no? Dimostrazione. Ascoltate un attimo quello che vi dico. Mi raccomando, non pensate a un elefante. Ah, e ti ho detto di non pensare all'elefante? Vedi che stai pensando all'elefante? Per i comportamenti dei nostri bambini è un po' la stessa cosa. Più noi stiamo lì a dire di non farlo, insistiamo, e più il comportamento pezzora. Magari l'abitudine nasce per caso, no? Magari il bambino è lì, vabbè, l'esplorazione del naso la conosciamo tutti. Magari a un certo punto era annoiato, si è messo la mano in bocca, ciucciando tra di qua, cercando di là, si è messo a mordicchiare l'unghia. Magari ha sentito, ha visto un personaggio di un cartone animato fare una boccazza e l'ha provata. Magari ha sentito una parola, lui ha detto, perché non conosceva, ha detto da un altro compagno. E quindi questa cosa qua viene di solito anche un po' per caso, no? Cioè il bambino non è che inizia per forza l'abitudine, la cattiva abitudine, il comportamento per darci fastidio. Tipo adesso sai che trovo un modo nuovo per infastidire mamma e papà? Perfetto! Però, cosa succede? Succede una sorta di magia, no? Cioè il bambino, c'è lì, gna gna, mordicchia, dice la parolaccia, e mamma e papà improvvisamente si voltano verso di lui, spalancano gli occhi, grottano le sopracciglia. Cosa fai? E ragazzi, i bambini sono un po' come degli scienziati in questo, no? Cioè loro vanno lì e provano e riprovano per vedere se, per verificare la causa e l'effetto. Allora ogni volta che lo faccio questa è la reazione oppure ogni tanto cambia. E poi scoprono anche una cosa incredibile, no? Cioè quanta attenzione e quanto potere hanno su noi adulti, i bambini con quei comportamenti lì. Cioè ma i papà erano tranquilli, stavano facendo tutt'altro, hanno persi col telefono, a me va stato a dire una roba e loro si sono girati. Ma è magico, aspetta che riprovo, eh? Andiamo un'altra volta, vediamo se succede un'altra volta così. Allora qual è la cosa, no? Che magari queste abitudini non nascono per niente come un modo per darci fastidio, nascono casualmente, però i bambini saranno sicuramente pronti a entrare nel gioco se noi lo rendiamo tale. Può essere difficile, eh? Lo so, ho sperimentato anch'io. Cioè tu sei lì, magari in situazione in pubblico, il bambino fa una roba che è socialmente inaccettabile o comunque che non si fa davanti a tutti e tu gli chiedi di smettere e lui non lo fa. È una di quelle cose che più ti fa sentire assolutamente, completamente impotente. E ti svelo un segreto. È così perché siamo davvero impotenti se pensiamo di poter controllare il comportamento del bambino. Se il nostro obiettivo è quello di costringere il bambino, allora sì, siamo assolutamente impotenti. Dov'è che abbiamo invece del margine? Provate a costringere il vostro capo a farvi un aumento o il vostro compagno a farvi una, a farvi, a vedere con voi una maratona di film strappalacrime. Funziona? No, perché a me non è mai funzionato. La stessa cosa vale per i bambini. Non più insistiamo e più... Ah! Anche i bambini hanno bisogno di decidere per sé. Certo, noi siamo abituati che, insomma, tipicamente li costringiamo con la forza. Però, ecco, la riflessione è più legata a... È questo che vogliamo insegnargli a costringere le altre persone a agire con la forza oppure a decidere per sé. Io vi propongo di fare un'altra riflessione. Il primo passo. Innanzitutto decidete voi. Decidete voi che cosa potete fare. Voi, come potete agire. Per esempio, siamo di là in sala insieme a un bambino, al nostro bambino, e lui si scaccola senza domani oppure fa dei rumori fastidiosi con la bocca? Possiamo dirgli, guarda amore, a me proprio quando fa così mi dà fastidio. Facciamo che quando proprio non ce la faccio più, io vado di là, eh? E poi ci alziamo e ce ne andiamo. Così abbiamo anche guadagnato 5 minuti di tranquillità. Oppure, il bambino dice una parolaccia? Possiamo chiedergli, ah, è questa una parola nuova, dove l'hai sentita? No, perché sai, ti devo dire un segreto. Ci sono delle parole che in realtà possono fare male agli altri, possono ferire, è meglio non usarle. Però sai che io conosco un'altra parola schifosissima? E lì possiamo puntarla sul gioco, no? Spesso i bambini quando dicono le prime volte la parola, cioè perché l'hanno sentita, ma non sanno realmente qual è il significato. E non so se avete notato che ci sono quelle fasi intorno ai 4-5 anni in cui i bambini adorano dire tutte le cose legate a pipì, vomito, cose un po' schifose. Ecco, lì possiamo cogliere la palla al balzo e trasformarlo in un gioco. Quindi diciamo, riempiamo di tutte queste parole che ai loro orecchi sono volgari, sono trasgressive, ma che invece noi sappiamo essere sicure. Oppure ancora, sputacchia! Prevediamo un apprendistato in un posto che a lui piace, tipo il parco, no? Ci mettiamo d'accordo con lui, guarda, se hai questo comportamento qua, ho fatto il caso dello sputacchio, però può essere che spintona gli altri, che urla, che non viene quando lo chiede, insomma, mettiamoci noi il comportamento. Allora, guarda, quanto succede che tu è così, io vengo, ti prendo per la manina e dobbiamo tornare a casa, ok? Però se tu invece scegli di non farlo, tutto a posto. E la prima volta che compare il comportamento, gli prendiamo la manina e lo portiamo a casa. Dopo 3-4 volte, certo che è faticoso, non so, però dopo 3-4 volte, tipicamente il bambino ha capito, associa e se ci tiene in più ad andare al parco, la volta dopo saprà fare la scelta più opportuna, più utile anche per sé. Secondo step, vogliamo capire cosa c'è dietro, se questa nuova abitudine, questo comportamento è il riflesso di una tensione, di uno stress che il bambino può avere. Perché capita anche a noi, adulti, quante volte ci è capitato di arraffare il pezzo di pane, il cioccolatino o il bicchiere di vino, perché siamo tesi, siamo stressati, perché abbiamo un pensiero e quindi, in maniera inconsapevole, per non sentire, abbiamo il gesto, l'abitudine. Per i bambini può essere anche un po' la stessa cosa, quindi può essere interessante far loro esprimere questa cosa. E quindi possiamo incoraggiarli a dirci, a raccontarci e noi ascoltare cosa c'è, cosa succede, come si sentono. Possiamo anche usare i giochi di ruolo, in cui facciamo il gioco del fare finta, oppure usare delle domande, no? In cui incoraggiamo, ci mostriamo curiosi realmente. Un trucchetto che a volte funziona è quello di fare delle domande assolutamente assurde, che il bambino sa essere assurdo, tipo Ma scusami, ma dimmi un po', ma tu ti mangi le unghie perché ti vuoi rendere i denti più appuntiti? È proprio assurdo. E di solito il bambino, ovviamente dipende dall'età, con i bambini più grandi, no, però i bambini piccoli tipicamente ti guardano come se fossi uscito da un altro pianeta, come dire, ma sei matto, e rispondono dicendo, ma no, è perché, e ti danno il vero motivo. Può essere un'astuzia che funziona. Terzo passo. Capito la parte per la prevenzione. Perché? Pensiamoci bene, no? Se tutto questo a Maradan, di gesto che non va a noi, che diciamo, non si fa, cosa fai, mamma mia, attenzione bambino che ripete perché vede che così ha una sorta di potere magico su di noi, ha la nostra attenzione, quindi circolo vizioso. Se tutto questo viene fuori, no? In fondo, dal bisogno del bambino. di avere la nostra attenzione, di sentirsi importante ai nostri occhi, possiamo giocare un po' d'anticipo, diciamo così. Possiamo usare quello che è in realtà un regalo che di cui spesso ci dimentichiamo, che è il regalo dell'attenzione. L'attenzione è proprio quella genuina, no? Quella delle piccole cose, dei piccoli momenti condivisi, quella del piacere di stare insieme in cui mettiamo da parte il telefono, mettiamo da parte la tv, il libro, il pensiero, le altre cose da fare, la to-do list e siamo semplicemente insieme, no? Sediamo lì e osserviamo il bambino che è concentrato a fare qualcosa, senza dire neanche niente, siamo proprio lì a osservarlo, in cui ci offriamo di fare un gesto affettuoso, magari anche un po' inaspettato, un massaggio, una carezza, ci offriamo di dare una mano a fare qualche cosa per il bambino, che di solito non facciamo. È una presenza, no? Magari anche solo di pochi minuti, però senza distrazione, in cui siamo lì proprio con la mente e con il piacere di essere là. Sono in fondo anche poi quei momenti che coltiviamo nella memoria, nel cuore, che ci piace ricordarci, che ci fanno sentire bene, ci riempiono il cuore. Quindi, riassumendo, uno, decido quello che posso fare e che voglio fare io, due, cerco di incoraggiare il mio bambino a esprimere quello che si sente, tre, cerco di riempire il più possibile il serbatoio affettivo del mio bambino. Grazie per aver preso il tempo per allenarvi un po' a mettere in pratica l'educazione positiva insieme a me. Un pensiero a tutti i genitori che ogni giorno fanno del loro meglio. E se avete voglia di approfondire come mettere in pratica l'educazione positiva nella vostra vita, potete considerare l'idea di unirvi anche voi al percorso Tempo per Crescere. Se questo episodio vi è stato utile e pensate che possa essere utile a qualcuno che vi è caro, mi raccomando, condividete. E, non ultimo, direi che se provate a mettere in pratica queste cose, se avete dei dubbi, se avete un episodio da raccontare, mettetelo nei commenti. che mi farà davvero tanto tanto piacere e potrà essere utile anche a chi leggi. Grazie, ci vediamo la prossima. Siamo arrivati nel prossimo posto. E vi riuso in questa situazione.